La Toscana è la prima regione in Italia ad aver avviato la somministrazione del vaccino anticovid prodotto dall'azienda AstraZeneca e destinato alle persone fino a 55 anni di età, appartenenti a due categorie considerate prioritarie, il personale scolastico, docente e non docente, le forze dell'ordine e di polizia. L'inizio della campagna era stato programmato per il 14 febbraio ma l'arrivo delle prime 15.400 dosi ha convinto il presidente della regione Eugenio Gianni ad anticipare l'inizio delle somministrazioni. È come una corsa contro il tempo, oggi sono più di 800 i contagi rispetto al periodo all'inizio di gennaio quando erano di media 400-500 il giorno, quindi noi è come se vivessimo una battaglia dove da un lato c'è il virus che ci aggredisce e dall'altro c'è lo scudo che noi mettiamo come scudo protettivo attraverso i vaccini. Le prime 15.400 dosi di vaccino AstraZeneca consegnata da Toscana dall'esercito sono state prenotate in sole 24 ore attraverso il sito regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Le somministrazioni continueranno fino a domenica 14 febbraio in 15 sedi selezionate su tutto il territorio regionale dalle tre aziende sanitarie. Poi bisognerà attendere la nuova fornitura. La priorità è comprare più vaccini possibili per i nostri cittadini. Noi siamo una macchina operativa, quella delle regioni, che è in moto, che dimostra di aver già provveduto a somministrare i vaccini che gli arrivano con tempestività anche nei richiami. Il 4% della popolazione è già coperta, noi dobbiamo ogni giorno guadagnare una postazione in più rispetto a questo terribile Covid-19 che poi si riproduce anche con le varianti. L'abbiamo visto al confine con l'Umbria, nelle città di Chiusi o delle nostre città di confine.